Le buone notizie vanno e vengono e si alternano con quelle certamente non buone e il riferimento è sia all'ambito nazionale che a quello regionale. Ad oggi il numero di persone contagiate in Calabria è di 817 e dopo il più 54 le domenica, uno dei bollettini con il bilancio peggiore dall'inizio della pandemia, oggi è arrivato un più 22 che significa comunque che bisogna tenere alta la guardia. Anche a livello nazionale del resto non mancano dati contrastanti, il calo dei contagi rispetto ai giorni scorsi c'è ma non è ancora abbastanza delineato. Aumenta il numero dei guariti, diminuiscono i decessi ma anche in questo caso non ci sono cifre per così dire definitive. Occorre dunque continuare a stare a casa, seguire le regole nella consapevolezza che potranno esserci anche ulteriori proroghe dopo il 13 aprile e che la Calabria, come già dimostrato nel corso di questa fase emergenziale, certamente sarà pronta a seguire le direttive se non proprio a inaspirle per evitare di vanificare i sacrifici fatti finora.